La crepa è un po' come la vita intima dell'uomo, la prima viene un po' male, però per fortuna che ci stanno altri tentativi, forse non subito perché insomma, sai, ora non è più amico mio, voglio dire, ha messo tagno, non è come 18, eh, inizia a sentire l'età, Enri? No, no, va tutto bene, allora, ecco la prima che verrà male, infatti, ma come glumolosa, che schifo, vabbè. Non guardate, 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 ci sono come dei pallini dentro. Enrico ti emoziona quando viene ripetendo, non lo sbaglio. Enrico, è vero, ma non ci stanno i uomini. È un'impressione, è proprio i primi. Adesso non lo mangio, però. Sto facendo non mi dicono mai a rotto di pelle, eh? Sto metto di pelle, no, 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 no. Grazie. Grazie. Grazie.